Ben trovati a Terra Valtiverina, speciale amministrative 2015 a San Giustino, ospite di questa puntata il candidato a sindaco Pierluigi Leonardi, candidato della lista civica Cittadini per cambiare San Giustino, ben trovato nei nostri studi candidato. Vogliamo iniziare con una breve presentazione del candidato Pierluigi Leonardi? Beh, diciamo esperienza amministrativa in primo luogo e comunque sia sempre il desiderio di andare alla difesa di quelli che sono gli interessi primi del cittadino amministrato, sempre in opposizione e comunque quindi con il desiderio primo di riuscire in qualche modo a far sì che le cose cambino nel comune di San Giustino. Sono 65 anni ormai governato dallo stesso tipo di amministrazione, con derivazioni di tipo diverso, ma comunque sia sempre centro-sinistra e sempre un certo tipo di centro-sinistra. Ci può spiegare la scelta di non inserire all'interno della lista nessun simbolo di partiti politici? Per cercare il massimo coinvolgimento da parte della cittadinanza, è un momento in cui in effetti i partiti raccolgono comunque un meno consenso e ci è sembrato opportuno riuscire ad avvicinare più persone possibili al desiderio comunque di cercare di cambiare appunto l'amministrazione di San Giustino portando alla collaborazione più cittadini possibile. Questo era il modo che ci sembrava più corretto e più giusto, quindi avvicinare la cittadinanza al modo nuovo di far politica. Avete scelto una lista giovani, è un mix tra esperienza e gioventù. È stato difficile, considerando il flusso di antipolitica che c'è in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi, inserire tanti giovani all'interno della vostra lista? No, devo dire anzi che è stata abbastanza semplice. Abbiamo trovato sin dall'inizio un modo di partecipazione a quelli che erano i nostri incontri da parte di donne, da parte di comunque ragazzi anche molto giovani. Abbiamo in lista ragazzi del 93, del 89, del 88, quindi ragazzi molto giovani che questo è un segnale appunto di volersi avvicinare alla politica a noi è sembrato molto facile per questo. Forse è un desiderio di partecipare che non era in precedenza espressa, desiderio forse di cambiamento di questo tipo di politica appunto. Quindi voi cercherete di andare al di là dei partiti, al di là delle appartenenze partitiche, ma mi tolga una curiosità. La vostra lista si contrappone in maniera forte e decisa alla lista di centro-sinistra, la possiamo inserire in una collocazione naturale nella centro-destra, credo anche per chi è all'interno della lista cittadini per cambiare San Giustino. Aggiungo e ribadisco non solo, nel senso che comunque sia è ovvio, è parovvio che chi è da una parte sta comunque dall'altra parte, quindi è necessario dargli comunque una sua collocazione. Resta il fatto comunque che appunto ci sono una forma di partecipazione anche diversa e questo è il senso appunto dell'iniziativa. Abbiamo comunque anche persone che sono letteralmente scontente di questo malgoverno della sinistra, perché da noi è comunque la sinistra che ha governato, di conseguenza è abbastanza chiaro e palese che ci sia comunque una nostra volontà da andare verso quel tipo di direzione. È ovvio anche altrettanto che c'è nel nostro interno un'appartenenza anche di tipo di centro-destra, è ovvio. Lei credo in questi... è alla terza o alla quarta legislatura? Quarta. È alla quarta legislatura. Ha visto passare nel parlamentino san giustinese tante generazioni di politici. Qual è lo stimolo che ancora la spinge ad affrontare questa ulteriore sfida? Il forte desiderio di cercare di cambiare questo tipo malsano di fare amministrazione che nonostante appunto i cambiamenti dei vari sindaci e le varie maggioranze che si sono comunque susseguite rimane tale nella rotta di appunto un sistema di governare che non è assolutamente quello che il Comune di San Giustino merita. Lei in questi anni si è molto lamentato per la mancanza di dialogo con le varie giunte. Non c'è stato modo di far sì che alcune delle vostre istanze fossero poi sposate dalle maggioranze che si sono alternate in questi anni? A volte c'è stata la completa chiusura, anche con un certo tipo di ottusità da un punto di vista politico. Altre volte c'è stata addirittura una situazione di tipo contrario. Proposte corrette da noi fatte sono state fatte proprie, ma non fatte proprie riconoscendo i meriti comunque dell'opposizione, ma fatte proprie attribuendoci come proprie di alcuni meriti tra i pochi di queste amministrazioni che si sono susseguite e proposte effettuate da noi in qualche modo. Quindi sono state scippate in qualche modo all'opposizione e proposte alla popolazione come iniziative proprie. Le sole poche al limite giuste fatte da quest'ultima amministrazione. Lei è consapevole che questa sarà una campagna elettorale totalmente diversa dalle ultime campagne elettorali. Il cittadino, l'elettore ha sinceramente cambiato modo di porsi e di vedere la politica, studia i programmi, ascolta le proposte e poi decide. Sembra che gli steccati partitici siano caduti definitivamente. Per questo motivo che in questa ora che ci separa dalla chiusura di questa trasmissione cercheremo di affrontare dei temi rilevanti per il comprensorio del Comune di San Giustino. Partiamo dalla burocrazia, partiamo dal modernamento della macchina amministrativa. Cittadini e imprese si lamentano per i tempi definiti impossibili per cercare di interagire con la macchina amministrativa. Ma che cosa cercherete di fare se verrete eletti e governerete i prossimi 5 anni il Comune di San Giustino? Tra i punti programmatici fondanti in qualche modo c'è appunto una totale revisione di quello che è l'apparato burocratico, una risistemazione totale della macchina pubblica con una totale apertura nei confronti dei cittadini, non solo cittadini in senso generico ma anche e soprattutto delle attività produttive. Nel nostro giro di incontri comunque è venuto fuori che c'è questo tipo di forte richiesta da parte appunto delle attività produttive. Peraltro tra le altre cose appunto è anche nostra intenzione in qualche modo già che il candidato a sindaco terrà per sé, e quindi il sottoscritto terrà per sé come delega lo sviluppo economico. Per noi è un aspetto fondamentale perché non c'è stata mai attenzione da parte delle amministrazioni che si sono susseguite nel tempo a quello che è invece l'attività produttiva in genere nel nostro territorio. La macchina pubblica basterebbe fin dall'inizio che funzionasse quello che è l'ufficio delle relazioni con il pubblico, quindi un'immediata risposta senza poi stare a perdere inutilmente tempo nei vari sistemi e funzioni all'interno del comune senza nemmeno sapere dove e come dirigersi. Quindi quello già ci sembra, ma l'idea dello sportello deve un po' funzionare per tutti quelli che sono tutto sommato gli ambiti del comune. Sportelli intesi nel senso come immediata risposta ai cittadini che devono trovarsi appunto nelle comune come in casa propria. Questo riteniamo sia fondante. E' caratterizzante anche dal nostro tipo di programma, dal nostro tipo di impostazione. Aggiungo che per quello che riguarda le aziende abbiamo anche idea di comunque andare a vedere davvero quali sono i problemi. Poi magari se entriamo nel merito anche i problemi principali, se entriamo nel merito anche di quello che riguarda appunto lo sviluppo economico, credo che questo potrebbe essere affrontato anche in maniera migliore. C'entreremo, ed è la domanda successiva, però mi tolgo una curiosità. Troppe carte, troppi carteggi. C'è la possibilità che il comune di San Giustino implementi il digitale, cioè passare alcune competenze per quelle poche e possibili dal cartaceo appunto alla posta elettronica, alla posta certificata? Questo è fondamentale. È fondamentale che avvenga, ma presuppone che appunto all'interno della struttura, della macchina pubblica, vi sia comunque la sistematica organizzazione di questo tipo di impostazione nuovo, corretto, giusto, è appunto anche una forma tutto sommato di risparmio di tempo e di denaro. Tempo e denaro da parte della popolazione, tempo e denaro da parte dell'amministrazione. Quindi verso il digitale sempre di più, però organizzando la macchina in maniera tale che questo risulti davvero funzionale. Lei parlava di un approccio importante con le realtà economiche del nostro territorio. Sicuramente avrete fatto il vostro giro di incontri, vi sarete consultati con i vari imprenditori del luogo che, lo vogliamo ricordare, il territorio del comune di San Giustino può vantare delle eccellenze supreme da questo punto di vista che sono riconosciuti in Italia e anche all'estero. Come valorizzare queste aziende? Come rilanciare per quel poco che potrete fare, essendo voi comunque, dovendo voi confrontarvi con il governo centrale, ma per quel poco che potrete fare, come vi muoverete? È fondamentale che l'amministrazione comunale sia di fatto collegata direttamente a quelle che sono le realtà produttive del nostro territorio. Abbiamo, è vero, delle eccellenze, ma è anche vero che la crisi, e questo nei vari riscontri che abbiamo avuto, non ultimo anche un Consiglio comunale aperto, che non ha avuto seguito peraltro, dove comunque le attività produttive hanno manifestato quali sono davvero le loro prime esigenze, quello di avere un contatto diretto che consenta loro di poter accedere a eventuali contributi esistenti sia a livello regionale sia a livello europeo e anche la possibilità comunque di avere un contatto diretto per quello che riguarda poi l'utilizzo per stage e per altri tipi di attività di quelli che sono i giovani nel nostro territorio. Sono richieste che sono state fatte dalle aziende, le aziende parlano di tassazione, ma prima ancora che di tassazione, quindi da avere un occhio anche nella tassazione, parlano soprattutto di un affiancamento totale dell'amministrazione che deve stare comunque a disposizione anche di quelle che sono le varie problematiche, anche al limite, anche le più semplici, che fanno parte appunto di un problema legato alla viabilità, alla sistemazione e dei parcheggi, eccetera. Quindi ci sembra fondamentale poter andare in quella direzione, la direzione di sentirsi davvero affiancati dall'amministrazione comunale da parte delle attività produttive del nostro territorio. Molti cittadini, molte imprese si domandano come mai un comune che ha delle realtà economiche importanti, che ha un reddito pro capite eccellente, rimanga ai margini dell'economia regionale e sia magari relegato a un ruolo di comprimario. C'è la volontà, nel caso i cittadini vi diano mandato per amministrare il comune per i prossimi cinque anni, di lavorare per rilanciare il comune San Giustino nei tavoli che contano. Perché è lì che poi si decidono i vari contributi. Parto da una considerazione. Spesso e volentieri da Perugia si sente parlare come di San Giustino, come una realtà non ombra. Questo lo possono dire anche a Sansepolcro, no? D'accordissimo. Una realtà non toscana. Non toscana. Ma c'è un problema di fatto però comunque che in realtà i centri di potere, tutto sommato, della regione Umbria sono sempre stati Perugia, il Perugino, il Follegnate, lo Spoletino e mai la parte più a nord della realtà Umbria. E questa è una responsabilità dei nostri politici, del nostro territorio negli ultimi anni. Politici che comunque non hanno saputo assolutamente portare in Alta Valle del Tedele, questo è un senso ancora più ampio, ovviamente non solo per San Giustino, portare tutto quello che ci sarebbe potuto portare. Parliamo da investimenti sulle infrastrutture di una certa importanza, e vien da sorridere pensando appunto all'AE78 ed altri tipi di situazioni di questo genere. Quindi sinceramente è una responsabilità politica grave di chi ci ha amministrato. L'intenzione prima è appunto quello di cominciare a battere i pugni sopra il tavolo e a farsi sentire davvero anche a livello regionale e anche a livello nazionale. Lei non considera una infrastruttura importante la piastra logistica che sta nascendo a confini tra il territorio Tifernati e quello San Giustinese? Io la considero una cattedrale nel deserto, tutto sommato, perché mi sembra che sia il modo per effettivamente al di là della forma dell'investimento che comunque è utile da un punto di vista di portare soldi sul territorio, ma solo ed esclusivamente da questo tipo di iniziativa, perché poi alla fine realizzare quell'opera in un momento ancora sinceramente non abbastanza critico, con una mancanza di un collegamento ferroviario, con la mancanza di un collegamento, perché ancora non è stata comunque terminata appunto e non sappiamo fino a quando. La E78 sinceramente sembra ad essere in questo momento una cattedrale appunto nel deserto. Ci sono comuni vicini al territorio San Giustinese che stanno intercettando i contributi europei che poi vengono erogati in seconda battuta dalla Regione. Vi si chiede un maggior impegno da questo punto. Lo farete nel caso... Ma è semplice... I cittadini vi diano l'onere e l'onore di governare il Comune di San Giustino per i prossimi cinque anni. Chi si è battuto e si batterà appunto questo tipo di modo di amministrare è credo in qualche modo quello che dovrà fare, perché le possibilità nel futuro, al di là di alcune considerazioni che possono essere fatte, valutazioni, decisioni, che possono essere prese nell'ambito comunale, comunque il sapere attirare dei finanziamenti è fondamentale, perché altrimenti noi comunque riusciremo a fare ben poco, parlo noi inteso come classe intera della politica del territorio. e appunto però il fatto che altri Comuni limitrofi al nostro riescano a tirare finanziamenti e il nostro no, sembra quasi dare un'indicazione prima proprio ai cittadini di come votare. Noi cercheremo di farlo e anzi la promessa è che lo faremo. Continuiamo a parlare di rilancio dell'economia, continuiamo a parlare di rilancio dell'economia, però parliamo di turismo, quindi rilancio dell'economia legata al turismo e alla valorizzazione di quanto presente in questo territorio. È stato fatto nel corso degli anni un passo in avanti rispetto a quello che può offrire il territorio di Sansepolcro, il territorio di Andiari, il territorio di Città di Castello, però c'è da lavorare, c'è da dare un impulso maggiore alle bellezze del territorio del Comune di San Giustino. Che cosa farete? Bisogna per forza di cose riuscire a creare una rete, perché diciamo che ciò che può attrarre il turista in San Giustino sono poche realtà importanti e significative, ma poche realtà, molto spesso è un turismo di passaggio, quindi dovremo fare in modo, da tanti punti di vista, di creare una rete Sansepolcro-Città di Castello, arrivando anche all'Eugubino, arrivando anche a zone che potrebbero portare turismo anche in qualche modo residenziale in San Giustino, perché altrimenti comunque il nostro è sempre soltanto luogo di transito, di un turismo che fa il mordi e fugge, arriva, vede quelle due o tre possibilità che ha di vedere dal punto di vista importante, come Villa Magrini-Graziani, come Castello Bufalini, come altri tipi di attività, il Museo Arcipretale, una considerazione di questo genere, ma sono comunque delle visite appunto da mordi e fugge. Bisogna comunque creare una rete, rete significa anche capacità ricettiva di un certo tipo, magari appunto sfruttando anche quello che è la nostra realtà, il nostro verde che abbiamo intorno, quindi parliamo anche di una promozione degli agriturismi, una promozione di realtà, cercheremo di andare appunto in quel tipo di direzione, portando anche cultura nel nostro territorio, cosa che è stata fatta pochissimo negli ultimi anni. Sempre parlando di rilancio dell'economia del nostro territorio, questo può avvenire anche con delle forme tecniche di detassazione, io mi riferisco in questo caso ai rifiuti, ma anche al risparmio energetico. Che cosa farete da questo punto di vista perché preoccupa e non poco la nuova tassazione e mi riferisco anche ai rifiuti in questo caso? Allora, prendiamola in un senso più ampio, tutto sommato quello che è l'incidenza della tassazione, la gravità, il peso che ha comunque nella nostra cittadinanza, attività produttive come cittadini normali nel territorio. e abbiamo diversi modi di poter intervenire. Partiamo innanzitutto dal fatto che dobbiamo comunque ridurre quelle spese e ci sono, vorrei che altri riuscissero a individuarle come le riusciamo a individuare. Voi le avete individuate? Perfetto, cioè nel senso, se noi abbiamo, faccio un piccolo esempio, su una spesa corrente del nostro comune di 7 milioni circa di euro, su questi 7 milioni di... Ne parla di bilancio complessivo? Di bilancio complessivo dove la spesa corrente ha questo tipo di incidenza. Bene, se noi soltanto riusciamo a risparmiare, faccio un esempio, perché sono mille rivoli di tante spese che possono essere comunque ridotte. Un 1,5-2% andiamo ad una riduzione di 100-150 mila euro. Sapete che cosa vuol dire? Vuol dire un punto di IMU all'incirca. Quindi, tanto per avere un'idea di come intendiamo procedere. Ma il punto fondamentale e principale, che poi non ho ancora sentito dire, e penso che non lo sentiremo dire, è che partiremo comunque da una riduzione di quelli che sono gli emolumenti della Giunta, in primo luogo. Io non sento parlare altri di riduzione di questi compensi. I cittadini devono sapere che comunque, semplicemente dimezzando i compensi, noi dovremmo un risparmio di circa 60-70 mila euro. Anche questi possono essere in qualche modo portati. 60-70 mila euro l'anno? 60-70 mila euro l'anno. A quanto ammontano gli emolumenti dell'intera Giunta? Considerate che il solo sindaco ha un emolumento di 36 mila euro, che potrebbe essere 18 mila, 17 mila, nel caso appunto in cui ci sia un sindaco che comunque abbia un proprio lavoro. Così non è stato negli ultimi anni. E anche gli stessi assessori, comunque nell'ultima Giunta arrivavano ad avere almeno due o tre, credo, di assessori, un raddoppio proprio perché avevano di fatto rinunciato al proprio lavoro per poter prendere un compenso doppio. Questi cittadini bisogna che lo sappiano. Nel nostro caso rinunceremo a questo perché tutti noi comunque abbiamo un nostro lavoro e quindi opereremo per il bene, non cercando di fare appunto dell'amministrazione il nostro lavoro. C'è una teoria di pensiero che contrasta un po' con quello che dice. Si preferisce che chi amministri il Comune di San Giustino lo faccia full time? Mi viene pensato allora perché non è stato fatto fino ad ora. Perché io comunque non ho visto in questi anni una presenza continua degli assessori e del sindaco in amministrazione. Allora mi si dimostra il fatto che comunque sia quei compensi erano necessari se la presenza tale non era all'interno dell'amministrazione. A me sembra che invece sia stato in pratica il bene rifugio di chi non trovava altre situazioni, altri modi di poter sbarcare il proprio lunario. Mi sembra proprio che abbiano fatto negli ultimi tempi proprio della politica un modo di guadagno, anche nel piccolo Comune di San Giustino appunto. In sintesi lei dice a parità di ore, mi correghe se sbaglio, a parità di ore noi percepiremo 60 mila euro annui lordi in meno rispetto alle precedenti amministrazioni. Me lo può confermare? Sì, senz'altro. Abbiamo appunto uno dei punti programmatici iniziali e vorremmo che anche gli altri magari lo facessero e sarebbe un risparmio che potremmo tutti promettere all'intera cittadinanza. Per ora l'abbiamo fatto noi soli. Detassazione significa anche, ci torneremo anche nella seconda parte di terra della Valteberina, ma detassazione significa anche lotta alle spese improduttive perché sappiamo che comunque c'è un feedback di entrata che parte dal governo, su quello non si può assolutamente discutere. Quindi tutte le riduzioni che avverranno, mi sembra di capire che avverranno tramite dei tagli alle spese improduttive del bilancio del Comune di San Giustino. Sì, poi c'è anche un altro modo fondamentale, perché se noi vogliamo cercare di ridurre la tassazione a tutti bisogna che aumentiamo la base impositiva, ovvero tradotte in sintesi coloro i quali pagano. Per far questo bisogna fare in modo che imprese vengano nel nostro territorio e questo è, dal punto di vista programmatico, una delle cose che abbiamo comunque pensato di poter portare avanti, che era quella di riuscire in qualche modo, invitando realtà produttive, anche limitrofe, all'avvenire nel territorio di San Giustino, anche con degli sgravi iniziali, magari in quelle che erano le tassazioni comunali. Ci sono delle aree ancora edificabili da poter destinare ad eventuali imprese che decideranno di iniziare la loro attività in questo Comune? Ce ne sono tante, il problema è che adesso le edificazioni... Ce ne sono anche già costruite, perché ci sono anche tanti capannoni non utilizzati o sottutilizzati nel nostro territorio, quindi non è un problema. Un problema potrebbe essere al contrario che magari occorrerebbe fare inizialmente degli investimenti per quello che riguarda la possibilità di collegamento delle aree industriali che in questo momento ci sembra abbastanza deficitare. Bene, ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria. Io vi ricordo che a terra della Valtiberina, speciale elezione amministrativa 2015 a San Giustino, ospite di questa puntata, il candidato a sindaco della lista civica cittadini per cambiare San Giustino, Pierluigi Leonardi, pubblicità. Ben ritrovati, seconda parte di terra Valtiberina, speciale elezione amministrativa 2015 a San Giustino. Siamo in compagnia del candidato a sindaco di cittadini per cambiare San Giustino la lista civica che ha proposto come candidato a sindaco Pierluigi Leonardi. Ben ritrovato. Torniamo a parlare di rilancio dell'economia che potrebbe avvenire anche attraverso la rivisitazione rivisitazione di un piano regolatore che proprio in questo anno scadrà, Leonardi. Non ci sono a bilancio fondi per reinvestire in un piano regolatore ex nuovo, però con delle varianti potrebbero essere sistemati alcuni errori tecnici fatti a suo tempo. Partiamo che gli errori tecnici sono stati tanti, quelli fatti a suo tempo, e che hanno di fatto condizionato anche in un momento buono dell'economia nazionale questa realtà, perché comunque era davvero un piano regolatore che non teneva conto veramente di quello che era la nostra realtà. Partiamo quindi da questa considerazione e per certi versi grazie a Dio che è scaduto tutto sommato e che quindi sia possibile intervenire anche con delle varianti di una certa importanza per riuscire appunto in qualche modo ad attrarre la possibilità senza poi andare a un'odificazione di tipo selvaggio. Nessuna intenzione di proporre una cosa di questo genere è molto importante invece che vengano superati alcuni paletti che venivano prima, che impedivano comunque prima alla realtà del nostro territorio imprenditoriale, del nostro territorio comunque di riuscire ad avere una loro collocazione. Ci può fare degli esempi tanto per cercare di dare maggiori informazioni? Tanto perché i cittadini del Comune di San Giustino hanno sofferto di quello che erano i progetti norma, cioè delle realtà nel nostro territorio abbastanza complesse però che comunque sembravano dettate e condizionate da quella che era la propria forma mentale di chi aveva ideato il piano regolatore generale. Quindi dovevano rispettare necessariamente certi canoni, certi spazi e questo ha creato il blocco di alcune possibilità edificatorie anche all'interno delle realtà centrali del nostro territorio. Un esempio è all'interno della frazione di Selci con un progetto norma mai effettivamente partito nella realtà di come doveva partire. Un altro è partito e partito male per quello che riguarda invece la zona della Dogana. Un altro è una realtà all'interno di Lama che comunque non è finito, non è terminato e che potrebbe comunque essere portato alla possibilità comunque di riuscire ad andare avanti nella realtà edificazione che è poi una realtà di edificazione di completamento. Altre cose e altri interventi che possono essere fatti anche la possibilità di ristrutturazione, di restauro di alcuni immobili che erano in effettivamente troppo ingessati quindi anche fuori degli abitati principali che erano ingessati comunque dal piano regolatore generale passato e appunto per fortuna ormai scaduto. Quindi lavorerete con dei correttivi anche su situazioni importanti? Sì, dovremo comunque agire in questa direzione. Quindi lei esclude un nuovo piano regolatore? Allora, pensare in questo momento a un nuovo piano regolatore nell'immediato significa pensare a una forma di investimento abbastanza rilevante che forse in questo momento non è sopportabile dalla nostra amministrazione. Quindi riteniamo che sia opportuno agire proprio con una certa calma ma riuscire a sanare alcuni tipi di situazioni che invece si sono poste come problematiche davvero negli ultimi anni. Rifiuti zero, questa parola le dice qualcosa? A me sa tanto di propaganda, sinceramente. Quando noi parliamo di rifiuti zero parliamo di un qualcosa che non riusciamo a comprendere perché dovrebbe essere un qualcosa che comunque non può funzionare se non in un circuito totalmente chiuso. dovremmo riuscire in qualche modo ad avere una forma di risparmio nel quello che è il rifiuto. In generale risparmio intendo dire minor produzione del rifiuto che parte comunque da considerazioni che hanno carattere nazionale, da una legislazione di carattere nazionale. Rifiuto zero. Se noi invece parliamo di un vero aumento della raccolta differenziata parlo di vero perché i dati che ci vengono propinati non sono realisticamente quelli che sono veri. Lei ha un dato vero, certo. Guardate, il problema è molto semplice. Noi non riusciamo a fare davvero raccolta differenziata in toto perché comunque sia non è stata fatta fin dall'inizio una forma di educazione, di illustrazione del sistema di far raccolta differenziata all'intera popolazione. Da quello bisogna veramente partire. Quindi da un punto di vista quantitativo io attendo ancora di vedere i risultati che sono stati promessi in concreto ma che non sono rilevabili perché peraltro la stessa lettura della raccolta differenziata risulta abbastanza complessa basta vedere appunto come il differenziato viene in effetti raccolto in maniera abbastanza generica in maniera abbastanza non nel modo comunque con cui dovrebbe essere fatta. Lì bisogna intervenire intervenire in un modo anche pressante per far sì che la popolazione collabori in toto e si parte appunto dalla fase culturale, dalla fase educativa. C'è la possibilità di diminuire la tassazione sui rifiuti gestendo meglio il loro trasferimento, Leonardo? Questo è un argomento importante. C'è facendo però una grossa pressione che non dovrebbe fare solo il Comune di San Giustino ma che dovrebbero fare tutti i Comuni che da questa scelta regionale sono in qualche modo penalizzati. Io ho ricordato altre volte che il Comune di San Giustino getta letteralmente dalla finestra 150 mila Euro per fare un viaggetto ai nostri rifiuti che vanno da San Giustino a Perugia da Perugia a San Giustino senza che ci sia un calo nel quantitativo di questi rifiuti se non quello fisiologico per andare e tornare normalmente. Ecco, le bisogna riuscire a far forza anche a fare sistema ma appunto con i Comuni del territorio per farsi sentire in regione riuscendo ad evitare questo spreco di risorse che è uno spreco di risorse pubbliche. Lavorerete su questo? Sicuramente sì. In questo caso facendosi davvero sentire cosa che gli altri non potevano fare perché dovevano comunque rispettare i diktat che venivano dalla regione dello stesso colore politico loro. Parliamo di un altro argomento importante un altro argomento che sta molto a cuore alla cittadinanza del Comune di San Giustino. Mi riferisco alla sicurezza. Lei come ben saprà e sicuramente a conoscenza dei tanti, troppi fatti di cronaca che in questi ultimi anni hanno interessato l'intero comprensione della Valtiberina. I cittadini vi chiedono maggior tranquillità e maggior sicurezza. So che è un problema che non può toccare solo chi amministra questo Comune ma ci sono modi e tempi per far qualcosa di concreto. Farete qualcosa da questo punto di vista? I cittadini devono sapere che in realtà il responsabile della sicurezza nel proprio territorio sicurezza pubblica nel proprio territorio è proprio il sindaco. Quindi da qui devono sentirsi in qualche modo tutelati. Il che significa che a parte dei tipi di intervento che possono essere possibili all'interno dell'amministrazione comunale quindi con un miglior utilizzo di quella che è la Polizia Municipale e su questo ci tengo in qualche modo che possono essere trovati dei sistemi comunque che garantiscano un maggior controllo anche da parte della Polizia Municipale. Però appunto è il caso Mi può fare alcuni esempi? Tranquillamente in alcune situazioni può essere disposto per esempio che il vigile appiedato possa frequentare le realtà del nostro territorio che sono diverse. San Giustino è fatto di quattro agglomerati urmani tutto a suo modo. Quattro quartieri. Quattro quartieri urmani diciamo, no? E questo consentirebbe comunque di avere la possibilità che un vigile appiedato possa girare possa entrare in confidenza con la popolazione per poter in qualche modo rilevare e far d'antenna per quello che riguarda appunto la forma di controllo del territorio su quello che nel territorio avviene. Ma questo è un aspetto come potrebbero esserci altri con tipi di controllo anche diversi programmati in momenti diversi nell'arco della stagione. Tra l'altro questi tipi di furto nelle abitazioni che sono le cose peggiori che la nostra popolazione in qualche modo sente possono essere anche in qualche modo cercati di ovviare vanno anche con una certa stagionalità quindi si potrebbe fare anche un certo tipo di controllo diverso da parte della Polizia Municipale magari senza annunciarla ai 4-20 anche per appunto il controllo di venti tale. Questo è una parte è una parte perché poi alla fine il compito primo del Sindaco è anche quello di sapere in qualche modo torno a dirlo perché la gente bisogna che lo sappia battere i pugni sopra il tavolo quando si sente in qualche modo non ascoltato da quali che sono altre forme di controllo nel territorio che derivano comunque dalla Prefettura che derivano comunque dal comando dei Caraminieri eccetera quindi bisogna in qualche modo farsi sentire alcuni territori altre cose che possono essere comunque fatte è migliorare in maniera decisiva quello era il sistema comunque dei rilevatori che erano stati messi all'interno del territorio che non sono stati messi nei punti si riferisce alla videosorveglianza che in effetti sembra così come è in questo momento abbastanza risile sta facendo soltanto delle immagini su alcuni luoghi centrali del territorio sembra abbastanza tutto sommato puerile bilancio permettendo cercherete se riuscirete a trovare i fondi ad investire di più magari cercando di inserire qualche unità in più nel corpo della polizia municipale e magari utilizzandole anche meglio nel senso che a nostro giudizio la polizia municipale deve stare più fuori che dentro e tutto sommato quindi c'è anche nella riorganizzazione degli uffici appunto c'è anche la previsione della possibilità che indipendentemente dal fatto che possono essere assunte o meno altre unità possano essere meglio utilizzate quelle che sono diciamo già le risorse esistenti un turno notturno potrebbe essere auspicabile? in alcuni momenti dell'anno in alcune situazioni credo che sia anche opportuno per dare un segnale più che altro per dare un segnale di sicurezza alla popolazione non tanto per essere in qualche modo davvero efficaci in un tipo di diciamo risorsa contro la criminalità quanti invece però per dare un senso di sicurezza alla popolazione forse sarebbe opportuno parliamo di un altro argomento importante ed è il sociale molti temono che i tagli del governo centrale inizino prima o poi ad attecchire nei servizi sociali della comune di San Giustino cercherete di trovare le risorse per continuare a garantire servizi primari che ci dicono a San Giustino siano eccellenti allora diciamo che ne abbiamo in qualche modo bisogno ma distinguiamo le cose per quello che riguarda il sociale intanto bisogna utilizzare al meglio le risorse che abbiamo ad ora perché comunque tali non sono utilizzate al meglio voglio buttare fuori una cosa che mi sembra anche importante che la popolazione comunque sappia però lei mi devi fare degli esempi faccio un esempio concreto faccio un esempio concreto è anche diciamo abbastanza caratterizzante tutto sommato non ci sembra opportuno per esempio andare a gettare dalla finestra appunto 16 17 mila euro del costo di un mediatore culturale che serve soltanto per esempio ad assistere la popolazione solo ed esclusivamente di lingua araba nel nostro territorio e quelli sono 16 17 mila euro che potrebbero essere diversamente utilizzati magari anche semplicemente istruendo l'altro personale già esistente nel poter dare un tipo di servizio anche alla popolazione italiana anche alla popolazione di altra lingua di altra etnia questo è un esempio asili nido trasporto pubblico sugli asili nido servizi agli anziani tanto per parlare di tre argomenti che interessano e che stanno a cuore chi ci vede allora partiamo un po' da considerazioni di carattere generale intanto asili nido e le necessità che comunque noi abbiamo nel nostro territorio che sembrano essere in qualche modo già esauriente per quello che riguarda il numero parlo dell'asilo nido di Selcilama e dell'asilo nido di San Giustino che poi è un misto pubblico privato tutto sommato e per esempio in quel caso c'è bisogno di un intervento che abbia la possibilità di dare una forma di restauro all'immobile che è abbastanza datato quindi in quel senso dovremo comunque andare dovremo andare anche cercando comunque di incentivare certi tipi di incentivare in qualche modo di far sì che costino meno alcuni tipi di intervento soprattutto là dove ci siano delle situazioni di più persone di nuclei familiari abbastanza ampi quindi lì dobbiamo comunque cercare di intervenire dobbiamo cercare di intervenire aiutando i giovani e abbiamo la possibilità di farlo creando davvero quello che è un io non mi informa giovane non è che mi piaccia poi tanto ma comunque sia diciamo che un vero e proprio centro di orientamento al lavoro all'interno della struttura comunale da parte dei giovani quindi riuscire a dar loro la possibilità di poter in qualche modo accedere a tutta quella che sono le possibilità di ingresso nel mondo del lavoro anche all'interno del nostro territorio mi piace collegarlo ad una per esempio ad una delle richieste che c'è stato fatta proprio da parte dell'imprenditoria del luogo che a volte lamentava il fatto per esempio che non c'erano indicazioni di giovani del territorio che potessero accedere agli stage aziendali anche questo fa parte di un modo di poter agire per quello che riguarda il sociale semplice che abbia però davvero un effetto costruttivo potremmo andare avanti abbastanza nei confronti degli anziani comunque abbiamo bisogno che vengano in qualche modo cercato di risolvere il problema intanto della loro lontananza dalla realtà devono comunque sentirsi integrati nella nostra realtà ed è un argomento abbastanza complesso perché nei prossimi anni ci sarà necessità di poter accedere a delle residenze per anziani e nel nostro territorio ci sono solo ed esclusivamente delle attività che hanno una natura da una parte privata e dall'altra parte in forma di cooperativa che realmente non sta dando i risultati che invece ci aspettavamo trasporto pubblico mi riferisco magari agli spostamenti che necessitano gli anziani ma anche i bambini che sono presenti nel loro territorio e che devono spostarsi e devono andare a scuola Leonardo purtroppo siamo vincolati da una da una questione la scelta sbagliata nel corso degli anni di diciamo delle realtà dove comunque abbiamo scuole eccetera perché abbiamo delle scuole che sono dislocate in maniera diciamo nettamente sbagliata mi riferisco tanto per fare appunto degli esempi chiari alla scuola di Cospaia e quello ha fatto sì che poi fosse una serie di costi da parte dell'amministrazione comunale sul trasferimento dei bambini prevalentemente dal capoluogo e quindi dobbiamo partire anche da queste piccole considerazioni errori del passato ci vincolano comunque con dei costi che sarebbero adesso in questo momento ed immediatamente difficilmente eliminabili bisogna comunque cercare di garantire il massimo possibile e questo c'è una certa difficoltà ovviamente quindi dovremmo andare incontro anche alla possibilità di accedere ad un aiuto da parte di attività associazionistiche altrimenti ci conegneranno difficoltà vale appunto anche per il discorso degli anziani e della necessità che a volte hanno appunto di accedere a luoghi di cura o ad altri tipi di situazioni ma anche alla semplice spesa settimanale parliamo di sport sempre collegato alla sociale perché fare sport è anche fare è sociale sono molte le società sportive di questo comprensorio che hanno all'interno del loro sodalizio settori giovanili quindi svolgono una funzione sociale importante la crisi economica lo abbiamo più volte è sottolineato nel corso di questi anni ha messo in difficoltà molte realtà soprattutto sportive c'è da gestire l'impianto che è in locazione ad ogni sodalizio come fare per cercare di venire incontro alle esigenze di queste società allora partiamo da una considerazione che appunto è fondamentale il fatto che si rivolga al pubblico giovanile e quindi anche ai giovani tutto sommato e quindi che ci sia la possibilità di poter dare una certa continuità per l'esercizio di pratiche sportive ai giovani questo è fondamentale al di là poi del fatto del rispetto delle varie associazioni sportive preesistenti nel territorio parlo dal calcio alla pallavolo a tutta una serie di situazioni di questo genere il problema è il problema della gestione e non è stato mai affrontato nella maniera idonea perché si è sempre cercato di fare una forma di contribuzione che partiva dal costo stesso quindi il fatto che ci sia un gestore il fatto che ci sembra più opportuno poter in qualche modo instaurare una forma collaborativa diversa con le associazioni sportive nel territorio cercando appunto di privilegiare al massimo intanto quelle che abbiano attività sportiva giovanile quindi partiamo da questa considerazione ovviamente c'è una grande difficoltà perché abbiamo anche dei problemi di gestione di tipi di impianto che non erano alla nostra portata e che invece sono state fatte nel nostro territorio mi riferisco ovviamente al palazzetto che purtroppo se viene utilizzato viene utilizzato comunque da realtà che non sono territoriali appieno perché se venissero infatti utilizzate solo da realtà territoriali di San Giustino solo ed esclusivamente di San Giustino sarebbero sinceramente sottutilizzate diventerebbe un grave problema anche la possibilità di gestire quindi voi cercherete di favorire qualora lo potreste lo potrete fare scusatemi vedendo un po' il bilancio quello che offre il bilancio quelle società che hanno al loro interno un settore giovanile quindi cercherete di valorizzare quegli sodalizi siamo quasi in conclusione poi ci sono due domande che le rivolgerò alla fine un'altra situazione critica un'altra criticità e la viabilità sono state spese parole importanti nel corso di questi anni sono state fatte delle scelte che qualcuno poi ha deciso di non farle sue mi riferisco in questo caso al senso unico di Viale Francesco Nardi ma anche alla viabilità del comune del capoluogo di San Giustino e a tal proposito le chiedo quale sarà la vostra azione nel caso verrete eletti ma soprattutto ci sarà la possibilità di vedere attuata nel corso dei prossimi cinque anni la famosa variante a San Giustino che molti hanno iniziato a ribattezzare la variantina Allora quindi parliamo a questo punto più di viabilità all'interno dei centri tutto sommato Viabilità all'interno dei centri ma anche del territorio Ok e allora ecco appunto perché parliamo di intanto partiamo appunto anche di collegamento e qualcuno ancora deve spiegarmi se piazza del municipio è piazza o è via o è via o è piazza in realtà questo è frutto di una scelta sbagliata che ha voluto comunque creare una realtà all'interno di San Giustino che non è utilizzabile né come piazza né come strada e abbiamo visto che non funziona non funziona certo che ormai è un investimento di una certa importanza che è abbastanza complicato poter gettare alle ortiche e quindi? Io sinceramente prospetterei in entrambi i casi non un referendum come ho sentito dire perché c'è una certa complicazione il referendum ma la consultazione popolare sarebbe importante in diverse situazioni critiche che sono state in effetti citate ma al di là di questo se dovessi appunto tirare fuori il problema io opterei inizialmente per la riapertura in entrambi i tipi di situazione per poi andare però immediatamente a trovare delle soluzioni che siano vere e tali altrimenti parla di riapertura del doppio senso di mano sia all'interno del San Giustino capoluogo sia all'interno di Selci rimane il fatto che le problematiche esistenti continueranno a esistere quindi dovremmo comunque mettere mano immediatamente a quello che è la possibilità di realizzare parcheggi di realizzare anche delle viabilità alternative e questo significa che non si può come invece è stato fatto adesso prendere dei punti centrali del territorio e dire ok solo senso unico no bisogna comunque andare a vedere in un progetto di tipo complessivo mi dovete spiegare alcuni tipi di situazione come adesso il parcheggio selvaggio che c'è comunque in piazza del municipio o come la ciclabile o pseudo tale all'interno invece di di Ale Francesconale sono delle sciocchezze che sono state portate avanti comunque tentativi di rimediare una situazione quando invece le situazioni vanno riviste all'origine vanno comunque riprogettate quindi si ripartirà nel caso Costeletti con la riapertura delle due grandi arterie ho parlato di un iniziale consultazione l'orientamento è comunque quindi prima vi consulterete ci consulteremo comunque con la popolazione basta la consultazione non è necessario il referendum che è abbastanza complesso ho sentito parlare di referendum ma la complessità del referendum anche nei tempi invece ci interessa appunto nei primi giorni dell'amministrazione riuscirà a avere questo tipo di e quindi l'eventuale progetto di una nuova viabilità avverrà solo dopo l'eventuale decisione da parte dei cittadini quindi da lì poi porrete mano al piano della viabilità ci sono visti in questi mesi alcuni lavori per quanto riguarda la viabilità il manto stradale ce lo consenta è arrivato ad una situazione di criticità enorme riuscirete se troverete i fondi a ripristinare un manto stradale decente allora è complessa questa questione perché alla fine dei conti deriva dalla possibilità di investimento che noi abbiamo la possibilità di investimento che è abbastanza in questo momento è limitata perché sento parlare sempre del fatto del patto di stabilità ribadesco per l'ennesima volta che se il patto di stabilità esiste ma il patto di stabilità ha impedito al comune di San Giustino di poter fare degli investimenti ulteriori nella viabilità particolarmente importanti e lo vediamo tutti la buca sotto casa se l'abbiamo in qualche modo tutti adesso e perché il comune di San Giustino nel 2006 2007 ha comunque violato il patto di stabilità in un modo abbastanza sciocco tutto sommato e la sanzione fatta dalla Corte di Conti che ha dato questo tipo di rilevazione ha fatto sì che negli anni successivi non potessero essere fatti degli investimenti di una certa consistenza rimane il fatto che qualora il patto di stabilità dovesse essere comunque allentato certo è che bisogna mettere mano comunque ad un serio programma di sistemazione delle strade nel nostro territorio e quindi se il patto di stabilità lo consentirà investirete proprio su quello credo allora siamo in conclusione ci sono due domande che io ho posto ai suoi colleghi candidati presenti nei nostri studi avete già pensato alla lista degli assessori in caso di vittoria io ho dato un'indicazione prima che era quello di avere come vice sindaco Luciano Aveschi e questa è un'indicazione che ho inteso dare per riconoscimento alla persona le capacità che ho potuto ormai prendere appunto atto delle capacità della stessa negli ultimi anni e anche per dare in qualche modo una sensazione di vicinanza maggiore a San Giustino Capologo essendo appunto io in qualche modo residente in una frazione così ci parliamo subito chiari come concetto e anche altrettanto chiaro il fatto che dobbiamo comunque inserire in giunta un mix di esperienza e di nuove leve tutto sommato anche se poi le nuove leve non sono date agli anni ma appunto alla partecipazione quindi la ricerca sarà anche nell'ambito di queste di quali sono appunto le soluzioni credo che i ruoli anche nei vecchi consiglieri debbano comunque avere un ruolo gli verrà comunque ritagliato il ruolo quale assessorati conserverà il sindaco di San Giustino Pierluigi Leonardi sviluppo economico è fondamentale che il sindaco prenda questo tipo di delega assieme a quello alla sicurezza quindi sviluppo economico e sicurezza saranno ad interim del sindaco Pierluigi Leonardi nel caso venga eletto e l'urbanistica e i lavori pubblici abbiamo all'interno della lista persone che sono competenti a poter svolgere questo ruolo comunque i nomi usciranno dalla lista elettorale che avete presentato sicuramente quindi non ci saranno assessori esterni o tecnici no si sembra anzi un modo di poter come è stato prospettato da altre parti per poter dare la possibilità di ingresso di altre persone comunque in ambito comunale non ci presentiamo con la nostra faccia andiamo di fronte agli elettori ci sono le competenze all'interno della lista queste vanno sfruttate che cosa farà nei primi 100 giorni nel caso i cittadini di San Giustino le conferiscono l'incarico di primo cittadino l'eventuale sindaco Pierluigi Leonardo l'immediata possibilità dopo consultazione di modifica del ridisegno tutto sommato del funzionamento dell'amministrazione pubblica quindi mettiamo comunque subito immediatamente mano a quello che è la possibilità di dare davvero l'immagine delle comuni di San Giustino rispetto ai cittadini di un front office devono comunque dare risposte concrete alla cittadinanza su quello che agiremo inizialmente e da lì partiremo comunque con una serie di valutazioni appunto in ordine anche i tempi comunque stringono perché tenete presente che ancora il comune di San Giustino non ha un bilancio di previsione e non lo avrà per il 2014 fino a settembre quindi dovremo pensare subito immediatamente anche a questo bilancio di previsioni che poi diventa alla fine quasi un consuntivo perché fino a settembre non verrà comunque approvato in 30 secondi perché dovrebbero scegliere Pierluigi Leonardo sindaco di San Giustino per trasparenza per correttezza per professionalità e per conoscenza dell'amministrazione pubblica penso che queste siano le cose di cui in qualche modo mi posso vantare ma con cui posso comunque alla gente dire di avere la piena rassicurazione dell'impegno che posso dare in quella direzione bene termina qua il nostro appuntamento l'appuntamento con terra valtiverina speciale elezioni 2014 a San Giustino era presente nei nostri studi il candidato a sindaco per la lista civica cittadini per cambiare San Giustino Pierluigi Leonardi a tutti voi una buona serata e un buon proseguimento con i programmi della nostra emittente grazie